Partecipata presentazione per Edicole e Madonnine Sacre a Fossato di Vico. Il libro targato Ora e Talabora APS è realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia e il patrocinio gratuito del Comune di Fossato di Vico. Nella chiesa della Natività di Maria di Palazzolo è stato illustrato il nuovo volume curato nella parte descrittiva da William Stacchiotti e in quella fotografica da Gabriele Giombetti. Ognuna delle 26 edicole censite porta con sé aneddoti, storie e racconti che contribuiscono a formare, seppur da un'angolazione particolare, la memoria di un territorio. Metterla per iscritto può servire a non disperdere un patrimonio storico, artistico e paesaggistico caratteristico di quel luogo. Questa è la convinzione del circolo. È stato un lavoro abbastanza impegnativo ma molto bello, entusiasmante. Ci ha permesso di conoscere tante storie che stanno dietro a queste edicole e storie che si intrecciano inevitabilmente con la storia del paese e del territorio di Fossato di Vico e che quindi ci hanno permesso di dare un'ulteriore memoria a questo paese. Una memoria chiaramente che è vista da un'angolazione religiosa ma che comunque rappresenta un qualcosa da fissare nel tempo. Siamo convinti che questo libro deve essere proprio una memoria per il territorio e l'auspicio è anche che un futuro possa servire un po' da stimolo affinché queste edicole, queste madonnine, alcune delle quali hanno anche un certo valore storico e artistico possano essere in qualche modo salvaguardate, restaurate, conservate affinché non cadano nell'abbandono. Mi è piaciuto vedere che innanzitutto alcune edicole anche in posti più lontani che ormai sono quasi abbandonati ho visto che vengono visitate, cioè ancora vengono visitate quindi si vede che ancora c'è una fede verso queste edicole. e l'altra che mi è piaciuta è anche vedere, fare una specie di restauro fotografico nel senso che specialmente le lapidi che le scritte si sono cancellate e la ricostruzione di queste scritte. A partecipare alla presentazione del volume tra gli altri il direttore generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazzi che ha sottolineato quanto siano importanti iniziative di questo genere per la comunità e il professor Mario Tosti che ha analizzato prima il concetto di devozione popolare e poi i motivi che hanno favorito la disseminazione di immagini sacre nel territorio entrambi hanno espresso il proprio plauso al circolo per l'iniziativa capace di far conoscere aspetti poco noti della storia del territorio e di valorizzarne la memoria.